Per me ciò vuol dire tornare alla dialettica bipolare tra destra e sinistra. Il grigio è un favore che non mi piace. Io voglio il rosso e il bianco. Voglio la polarizzazione che dà un nuovo forza alla democrazia europea. Per sauver la democrazia, il faudra già inclure la società civile, le jeune, le moins jeune. Per me l'Europa non può essere democratica senza i citoyens. Il grigio è molto importante per il futuro dell'Europa e credo che i politici dovrebbero siano più quali sono le priorità per i bambini. Si vedete i bambini, i bambini siano molto disenfranchiti, hai una attitudine molto negativa. Quindi il più grande cambiamento, il più grande attività che puoi avere è di rinforzare questa attitudine, di rinforzare questa norma che esiste e rinforzare questi bambini a partecipare. I bambini sono più importanti, ma non le solo. E anche tutte le generazioni. Allora, abbiamo bisogno di avere 8 regole per investire, per combattere l'employmento. Abbiamo bisogno di avere un sistema democratico che crea la continuità e il governo. Io sono in favore di un ministro finanziario per l'Europa. Abbiamo bisogno di avere un bambini che vota il budget e controlla il ministro. Questo è, in mio view, l'Europa del Parlamento. È un po' di milione. È un po' di milione. Io sono in favore di un po' di milione. Grazie a tutti